Budapest Budapest e l'albergo bagni termali Che posto elegante E anche ben protetto E' ora di farmi bello e concentrarmi Per fortuna ho portato il mio completo Credo che stavolta punterò sulla vecchia scuola Ho una prenotazione per due giorni Che nome, prego? Signor Tobias Ripper Abbiamo una bella stanza per lei, signor Ripper Vuole fermare qui? Ma certo Hmm, pare che il nostro amico Wolf Abbia la stanza 202 Se vuole controllare la sua posta Deve solo darmi la chiave della stanza Va bene? Me lo ricorderò Spiacente signore Ma non può entrare con quegli abiti Si cambi nell'ultima cabina Dove troverà un indumento adatto Sì, è tutto Sì, va davvero caldo in questo posto Ah, sono stato in posti più caldi Se può consolarla Fra poco raggiungerà un posto ancora più caldo Allora, conolto che si sono più caldi Sì, va bene 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 questo è lo scogliatoio delle signore dunque ovviamente lei non può entrare però se lo desidera può usare la mannaia dello chef per rimediare a questo problema di sesso non Grazie a tutti. Che vuoi? Posso vedere il signor Wolf? Non senza appuntamento. Va bene, allora sarà per un'altra volta. 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 Temo di no. Attualmente si trova nella sauna. Per un'altra volta. 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 Esca subito dalla mia cucina. Esca subito dalla mia cucina. Se avevo 50 di no. Per un'altra volta. Per un'altra volta. Per un'altra volta. Per un'altra volta.